ciao ragazzi oggi presentiamo cala u bass il signature hutchinson un piccolo basso acustico che monta elettronica shadow un pick up shadow con la possibilità di regolare il tono dello strumento vi faccio sentire come suona acustico e poi elettrificato ok ora lo elettrifichiamo attiviamo il pick up questo è il primo settaggio ok ora apriamo un po i medi un po Ora lo utilizziamo con i toni sugli alti. Ciao, alla prossima!